L'alta velocità ferroviaria in Calabria è sempre più una chimera. Il governo Meloni infatti starebbe lavorando a un'ennesima rimodulazione del PNRR. Nei tagli finirebbero anche studentati ferrovie e autostrade, tra cui alcuni lotti della Salerno-Reggio Calabria, in particolare quelli calabresi per i quali non esistono ancora nemmeno certezze sul tracciato da seguire. Per la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, si tratta di un'ipotesi assurda da scongiurare subito. Giù le mani dalle infrastrutture, le modifiche al piano e alla governance volute dal governo, hanno già comportato ritarde e penalizzazioni per il Sud e per i più deboli. Altri tagli non sarebbero accettabili, tanto più se a sbagliare i conti e il Ministero, altro che gli sbandierati pagamenti delle rate da parte dell'Europa, aggiunge Paita, il PNRR è fermo al palo e cantieri non se ne vedono. Sempre sull'argomento si registra pure l'intervento di Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico e Commissioni Politiche Europee a Montecitorio, dopo la prima rimodulazione, che ha cancellato miliardi di Euro, spiega per investimenti su una decina di capitoli di interventi, eliminando tra l'altro 500 case ed ospedali di comunità, oltre a 100.000 posti in asilinido, pare che ci si debba preparare ad un nuovo drammatico colpo di scena per il nostro piano di ripresa e resilienza. Secondo quanto appreso da notizie di stampa, il Ministro Fitto avrebbe in mente di operare altri tagli prima di partire per Bruxelles. Questa volta, prosegue Piero De Luca, sarebbero sacrificati sull'altare dell'incapacità di questo governo i 60.000 posti letto dei nuovi studentati ed alcuni lotti di infrastrutture strategiche, tra cui l'alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria, una prospettiva che, se si realizzasse, sarebbe disastrosa per il Paese e soprattutto per il Mezzogiorno. Il Sud ha già visto più che dimezzarsi i fondi a sostegno delle politiche di sviluppo con quest'ultima legge di bilancio. Un'ulteriore riduzione delle risorse, a disposizione, conclude il DEM, equivarrebbe al colpo di grazia su ogni speranza di convergenza e riequilibrio territoriale. Grazie a tutti.